Tra 5 minuti sono pronto, ci possiamo collegare quando volete Radio Carro, la radio strana per gente strana che ti fa sentire strano E la madonna, e la madonna, è un chilo e mezzo lì Comunque il tuo era madonna, mi hai fatto morire Il buio all'alba che si fa d'argento e la finestra Avrei un telefono vicino che vuol dire già aspettare Schiroma di cavalloni pazzi che si inseguono nel mare E pantaloni bianchi da tirare fuori che già è stato Un treno per l'America senza fermata Avrai due lacrime più dolci da seccare Un sole che si uccide e pescatori di terellino E neve di montagna e pioggia di collino Avrai un legnetto di cremino da succhiare Avrai una donna certa Buongiorno, buongiorno a tutti amici di Radio Carro Bentrovati, lunedì, che giornata caccia lunedì 8 novembre 2021, i giorni passano inesorabili e molto veloci Avvicinandoci lentamente al giro di Boa Manca ancora molto il giro di Boa Ma però insomma, il sostizio d'inverno, il giorno più corto dell'anno E vabbè, faremo dopo tutte le considerazioni del caso Quando questo saremo vicino Tra l'altro poi, come sappiamo, saremo vicino anche al Natale Allora, come andiamo ragazzi? Dicevamo lunedì, giornata c'è Giornata c'è perché si ricomincia Se vi saluto il discorso Che grosso modo faccio ogni lunedì e ogni venerdì Un lunedì è una giornata così Dove, come lo ripeto di nuovo per l'ennesima volta Magari per i nuovi ascoltatori Per chi non l'ha ascoltato prima e quant'altro Una vecchia canzone di Umberto Tosi diceva Il mondo si riveste di ogni lunedì In effetti, non c'è niente di più vero Allora, veniamo da un weekend ricco, ricchissimo di eventi Innanzitutto, prima di arrivare agli eventi ragazzi Io devo fare assolutamente un paio di considerazioni E poi devo raccontarvi un po' come è stato Perché venerdì mi avete sentito Soltanto due minuti Con una voce molto rauca Molto malandata Sono stato abbastanza male, devo riconoscerlo Ho avuto un raffreddore Non ho avuto né febbre, né influenza Né tanto meno covid, niente di tutto ciò Ho avuto effettivamente soltanto un fortissimo Un fortissimo raffreddore, ma effettivamente veramente un forte raffreddore E avevo un po' lo dolore ovunque E quindi avevo già, tra virgolette, messo in preventivo Che probabilmente venerdì non sarei potuto andare in onda Il motivo è molto semplice Perché con quello che è accaduto Giovedì mattina al lago È stata veramente una cosa pazzesca Certo ragazzi, le considerazioni sono Una considerazione va fatta Ieri pensavo con Giulio Quando dopo l'ennesima giornata di sole, di caldo Passate qua Ieri c'era un bel sole, nel pomeriggio Si stava benino Temperature abbastanza alte 9 gradi, 10 gradi Ma è mai possibile che L'unica giornata Veramente di merda Che ha fatto l'abbiamo beccata noi all'anno Perché? Perché la trasmissora innanzitutto Che abbiamo registrato mercoledì sera è stata bellissima L'ho ascoltata ieri Io l'ho ascoltata proprio ieri per la prima volta Mi dispiace un po' per alcune cose Dati problemi tecnici So che Alberto ha fatto i salti mortali Per cercare di fornirvi un audio decente Soprattutto dalla mia parte Si sentiva molto forte il rumore della pioggia Su un ombrellone sulla tenda Per questo mi dispiace È stata molto improvvisata Ed è stata soprattutto molto spontanea Roby mi ha chiamato la mattina Mentre stavo recandomi al lago Tutto euforico Entusiasta per me Diceva guarda io stasera registro la trasmissione E così ci siamo detti Lo sai che sarebbe proprio perfetto no? Registrare la trasmissione sulla pesca Proprio mentre suoniamo pesca E in effetti è stata Diciamo è stato vincente Ripeto A parte i problemi tecnici Che ha dovuto affrontare il nostro tecnico Alberto Detto questo Però Cioè Ascoltando la trasmissione Quindi ascoltando come la serata In realtà stava andando benone Tra l'altro si stava pescando Non si prendevano pesci grandi Non si stava prendendo quello che non cercavamo Però come dice Roby Ogni pesce va Va trattato con il giusto rispetto Ogni pesce che tu porti Che tu porti al lago Che tu porti a riva Deve essere sicuramente sempre Trattato con l'amore Con l'amore Perché giustamente Vieni a trovarti Ti viene a fare visita E come tale Quindi pescavamo Queste breme Queste brax Come vengono chiamate qua Animava un po' la serata Sapevo che il giorno dopo Sarebbe potuto accadere Purtroppo quello che è accaduto Ma non pensavo così A dire la verità Veramente non pensavo A una cosa del genere Cosa succede? Succede che Noi è tutto a posto Tutti in ordine Tutta quella cosa Fatta con i teli Con l'ombrellone C'è tutto quella Non so come chiamarlo Con quel marchigegno Capito? C'è tutta quella costruzione Ecco Quel costrutto fatto Tanto bene E ragionato da tempo Tutto per risparmiare Per risparmiare al momento E che i soldi Di comprare una tenda Corretta come deve essere comprata Di comprare un po' le cose giuste No? Ecco Perché se avessimo avuto Le cose giuste Anche in una condizione estrema Come quella Non sarebbe accaduto Quello che dopo è accaduto Invece il giorno dopo La mattina successiva Quindi Ascoltare la termini E io ero entusiasta Perché L'acqua correva via Stava piovendo Abbastanza forte Ma Noi ce ne stavamo Al calluccio Nella tenda Perfettamente asciutti La stufa Faceva il suo Il suo perfetto lavoro Tra l'altro Poi queste Queste bombolettine Di butano Piccoline Che si cambiano Velocemente Costano al negozio Due euro l'una Ma in internet Te le puoi trovare Anche a meno Ci sono delle offerte Prendi dieci Venti Di queste bombolette Use e getta E costano veramente Veramente pochissimo E durano circa tre ore Tre ore e mezza Adesso Grosso modo Mezz'ora più Mezz'ora meno Dopo dipende Tu come mandi Chiaramente la stufa Non dico che si sudava Dentro la tenda Questo magari no Ma si stava bene Ma bene Ed ero veramente entusiasta Di tutto Io e Giulio Eravamo stra contenti Finiamo la trasmissione Verso Più o meno Verso mezzanotte Di roba Undici e mezza Grosso modo Di registrare Tiro su La terza brema Abbastanza bella Più o meno Sera stato Un 600 grammi Ne abbiamo presa Una ragazze Che era più di un chilo Vedere Vedere un pesce Molto simile a un carasso Di oltre un chilo Diciamo per un italiano Che non ci è abituato A vederli come me Effettivamente È sempre È sempre una cosa Un po' particolare Tant'è Abbiamo fatto le foto E le abbiamo mandato Anche al gestore Del lago Il quale è stato Anche molto contento Anche molto contento Di noi sinceramente Perché Mi ha fatto le cose giuste Seguendo le regole E soprattutto Tenendo tutto Tutto perfettamente pulito Niente Più la trasmissione Mi ci mettiamo giù Nel frattempo Giulia Poverino Si addormenta Perché è stata una giornata Molto pesante Mentre registravamo Ci addormita Perché noi stavamo Chiaramente seduti No Stavamo sdraiati Dentro la tenda A registrare Aspetto Fino a quando Finisce una bombola Perché avevo Il tetto della tenda Essendo una tenda Estiva Push up Anche se di fuori Avevamo messo un telo No Proprio per fare in modo Di trattenere L'umidità Al di fuori Al di fuori Della tenda stessa Un telo Che aveva dato La zia di mia moglie Un telo Di un camion Per l'interno C'è molto grande L'avevo proprio Steso sopra La tenda Fissato Teso ben bene Proprio per fare in modo Che l'acqua Scivolava via Direttamente Sui Ai lati No Quindi tirato Con i picchietti E quant'altro Insomma Avevo Il tetto Della tenda Praticamente Supra di noi Mi giro Vado a guardare Di fuori E mi accorgo Che purtroppo Stava nevicando Aveva cominciato A nevicare Adesso non so Quando Non so Verso le 4 Più o meno Aveva nevicato Circa da un'oretta Ovvero Il peso della neve Purtroppo Proprio il tipo di neve Quella sbagliata Perché Se dovesse nevicare Con una neve Dove magari No C'è un poco Di vento Ed è anche Abbastanza freddo Con le temperature Che scendono Sotto lo zero Ti fa Quella neve Un po' fina Quasi come una sorta Di polverina Non ha quasi Peso per niente Invece Quando ti fa Quella neve Con le temperature Che stanno A un grado Zero gradi Proprio Che tocca Così È una neve Bagnata Si dice Quindi Quella sorta Di acquaneve Che Ha un peso Pese Molto pesante Molto appiccicosa Quindi il peso Ha fatto in modo De abbassare la tenda Ma non solo Mi sono accorto Che l'ombrellone Con i teli Praticamente I teli di fianco Per colpa Sempre del peso Si era piegato Da una parte Piegandoci Ahimè Da una parte Aveva praticamente Bagnato la maggior parte Delle cose La stanchezza Un po' di rabbia Un po' di Tensione Un po' di paura Ho detto Dico Ci guardo più tardi E ho ricominciato Mi sono addormentato Di nuovo Praticamente Ho cambiato Di nuovo La bombola Ho rimesso Una bombola Fresca Il freddo Era molto forte Giura di fianco A me Che dormiva Quando ho avuto Diciamo La forza Il coraggio Di alzarmi Per andare a vedere Che cavolo Stava succedendo di fuori Verso le sette e mezza Del mattino Sinceramente Ho visto una scena Che Non avrei mai voluto vedere L'ombrellone Piegato I teli Che non coprivano più La neve Che inesolabilmente Cadeva Quindi Tendeva A piegare il telo Sempre di più Cioè Ad abbassare Il tetto Della tenda A piegare L'ombrellone Da una parte E quindi A bagnare tutto Di tutto Di più Bagnandoci Addirittura Purtroppo Tutti i vestiti Di ricambio Ho pensato Sapevo Che sarebbe Stata una sofferenza Però Sinceramente Proprio così No No E le dico Ragazzi Che ha avuto Un momento Veramente Di sconforto Mi sono detto Adesso Prendi un pacchetto Tutto di corsa Andiamo nella macchina E ce ne andiamo a casa Ce ne andiamo a casa Perché Effettivamente È brutta Una scena Veramente Veramente Brutta Perché vedete Se vi si bagna L'attrezzatura Della pesca Tra virgolette Cioè Vabbè Bastienza Ci passi sopra Non è un problema Se vi si bagna Il manciare E Purtroppo La metà Non lo potete utilizzare Già lì Comincia a diventare Un problema Ma se avete i vestiti I mezzi bagnati Molto umidi Sentite freddo Ed i vestiti di ricambio Che vi siete portati Sono tutti fratici Completamente fratici E lì sinceramente Comincia a diventare Un problema Fatto sta Che armateci Entrambi Sia io che Giulia Di tanta pazienza E soprattutto Di tanta forza Di volontà Usciamo fuori Cerchiamo Di raddrizzare L'ombellone Rimettiamo i teli Cerchiamo di salvare Il salvabile Mentre stava nevicando Fortissimo A dei fiocchi Molto grossi E tutto il panorama Di fronte a noi A quel punto lì Ormai chiaramente Era giorno Erano le otto circa Era completamente bianco Completamente bianco Una volta Essersi scaldati un pochino Asciugati un po' Sistemato Aver bevuto Un bel sano caffè E un bel bicchierone Di latte caldo Con il miele Fatto apposta Dal fornellino Abbiamo cominciato A so io che Giulia Un po' a riprenderci E lì diciamo Che ci siamo goduti Il resto Della pescata E della giornata Perché nonostante tutto Che era bagnato Che era difficile Che faceva freddo E quant'altro Mi sono detto Ma come sarebbe a dire Sono due mesi Che aspettiamo Che organizziamo Questa pescata Ne ho parlato tanto Appunto con Roby Ieri abbiamo fatto Una trasmissione bellissima E la prima notturna Che faccio insieme A mio figlio Giulia E sapevo che era Una sofferenza Adesso che c'è Veramente da soffrire Che faccio Prendo Vado via Come una sorta di Di vigliacco In un certo senso No 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 Anche per dare Un po' di buon esempio Anche allo stesso Allo stesso Giulia Dopo aver Essermi un pochino Sfogato anche con Roby Una mattina L'ho chiamato E dico Ah sono disperato Avanti e indietro Ci sono fatto coraggio E ho ributato E ho ributato le cani in acqua Abbiamo risistemato E devo dire Che ci siamo goduti Così Nonostante Il fatto che Ormai i danni Erano stati compiuti Il resto Della Della mattinata Di pesca Ed è stato Altrettanto Altrettanto Bello Insomma È stato piacevole È stato Abbiamo pescato Anche di più Di quello Che normalmente Avremmo dovuto pescare Abbiamo preso Altri pesci Altre breme L'abbiamo preso In tutto In tutto Sette Che come diceva Roby Dovuto al periodo Sinceramente È anche Il tipo di lago Che non conoscevo È stata una sorpresa Infatti Abbiamo Abbiamo veramente Raccolto Tante tante Informazioni Su come impostare Le prossime pescate Di dentro Ed È stato bello Poi dopo A un certo punto Siamo andati Sotto consiglio Di Roby Avevamo portato I vestiti Di ricambio Nella macchina Ad asciugarsi Una volta Acceso il motore Al di là Dell'inquillamento Ragazzi Ma in quel momento Lì Non ci penso Una cosa del genere Acceso il motore Di riscaldamento L'aria calda Puntata sui vestiti Per asciugarli Mi rimesso Tutto quanto A posto Con tutta calma Insomma Avevamo preso Mi ha sistemato Tutto quanto Dentro la macchina Bagnato Incasinato Tutto quello che c'era Ormai quello che era Successo Era successo Sono un po' Scoperte Cuscini Bagnati Tutto quanto E forse avvenuto a casa Questo un po' Dovevo Dovevo dirvi questa cosa Anche perché Uber in fine settimana Mi aveva chiesto Come è andata Io non ho avuto Tempo di rispondere Privatamente Quindi io E con il tuo risposto Qua in radio Rendendo un po' Partecipo Tutti Perché Ma perché Ho deciso Diciamo di spendere Tra virgolette Questi minuti In una trasmissione Che non c'entra niente Perché La trasmissione Di mercoledì sera La registrazione È stata molto Molto bella E ascoltandola ieri Veramente ho pensato Ma guardate Mannaggia E la misera Purtroppo L'unica giornata Diciamo un po' Bruta E L'abbiamo beccata A noi L'unica giornata Veramente brutta L'abbiamo beccata A noi Però Mi ha anche detto Il panorama Lo spettacolo E la prima volta No Mi era capitato Un'altra volta Di pescare al fiume Mentre stava facendo la neve Tantissimi anni fa Quando stavo facendo Il campionato Il campionato provinciale E Ma erano situazioni Completamente diverse Insomma Queste Era un po' Una cosa Questa è stata veramente La prima volta in assoluto Che ho fatto la tecnica Del carfishing Del method feeder Praticamente Proprio con la neve Con la neve È stato veramente particolare In solito Ripeto Bello C'è stato da soffrire Ma è stato molto particolare Ragazzi Adesso noi ci andiamo A ascoltare una canzone Mi ho appena scaricato Qui nella pacchetta E alla rientro Oggi sono da solo Lo sapete Lunedì Over non riesce a registrare Se riesce a registrare Normalmente Lo passa da Alberto Il quale deve anche Non montare il file Quindi Normalmente Over lo sentiamo Sicuramente domani Vediamo Durante la settimana Se Riusciamo a fare una diretta Anche con la nostra Barbara Vedremo un po' Così Da farsi I bambini Ritorneranno alla scuola Quindi All'asilo Bisogneranno a vedere Anche se Devo dire Che Sia Ave lì Che adesso Anche Giulia Insomma Quella raffreddore Molto forte Quella tosse esagerata L'hanno prezzato Ma era Ma era normale Ragazzi Che era Cioè Era messo in preventivo Fa parte del gioco Che poteva accadere Una cosa del genere È chiaro che Concludo il discorso Se Avessimo avuto La tenda corretta Quindi Una tenda giusta Dove la neve Anche se Si posava Sopra la tenda Non faceva in modo Di calare Di crollare Basta Come ho fatto Poi un po' di botte Da sotto e sopra Per toglierla Non avreste Sistemato tutto Una tenda Dove Diciamo Non l'ombrellone Che si piega da un lato Che pide Cioè Un costrutto Veramente Molto 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 Fracile Avendo avuto L'attressatura corretta Tutto quanto Tutto quel casino Della roba bagnata Che è successo Non sarebbe Per me Ecco perché Insomma Una volta arrivati a casa Sono andati a corse Lì Sono subito Corse di pari Ho subito Acquistato l'ombre Alla tenda Adesso mi dovrebbe arrivare In settimana E poi Con il tempo Insomma Verso Natale Vediamo di comprare Tutto adesso Delle cose Materassini Rettini Santi a peli Insomma Tutto quello che serve Perché Se è una cosa Che questa Che questa avventura Ci ha imparato Sia a me che a Giulia E che è una cosa Che ci piace tantissimo Che vogliamo sicuramente Proseguire a fare Ma che però Se la vogliamo fare Va fatta Nel modo giusto Nel modo giusto E corretto Non solo Con l'attressatura da pesca Che deve essere Chiaramente All'avanguardia Ma deve essere anche L'attressatura affidabile Che ti consente Che ti consente poi Di arrivare Alla distanza giusta Di pescare Con il modo corretto Con l'esco corretto Ma anche di stare comodo Perché come dicevamo Appunto Nella trasmissione di ieri Questo tipo di pesca Queste battute di pesca Non sono Le pesche Che si fanno al fiume Che durano tre ore Quattro ore Quelle sono battute lunghe Molto lunghe E la nostra flemme E tutto il resto Ha bisogno Assolutamente Di comodità Altrimenti Non è possibile Praticarla Allora Gli dicevamo Velocemente Una bella canzone E poi Alla rientro Tendiamo a parlare Un po' Sia di formula 1 Che di calcio E di quello Che è successo Questo fine settimana A dopo Rimanete lì Non andate via Radio carro La radio che spacca I change the world I change the world Ooh Ooh I change the world I wanna change the world Ooh 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 This ain't the way I spend my mornings Baby Come stai You've been with him Now you come back My lady What's he like I just said Watch the ocean By myself Even doing my own cooking You can laugh And You're forgiven But I'm no longer frightened To be living Sensa una tona No more pain And no sorrow Sensa una tona I'll make it through tomorrow Sensa una tona Giving me torture And bliss With other woman Better like this Yeah There is no way That you can buy me Baby Don't make fun You've got to dig A little deeper Later In the heart Yeah If you have one Here's my heart Feel the power Look at me Look at me I'm a flower You can't You can't You can't You're forgiven But I'm no longer frightened To be living Sensa una tona No more pain And no sorrow Sensa una tona Or I'll make it through tomorrow Sensa una tona Giving me torture And bliss Sensa una tona Oh 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 I stay here and watch the ocean Don't know why Don't know why Don't know why I keep on talking I keep on talking You made life You're forgiven But I'm no longer frightened Maybe To be living Sensa una tona No more pain And no sorrow Sensa una tona You know I'll make it through tomorrow Sensa una tona Giving me torture And bliss Without a woman Viene qui Come on in Sensa una tona I don't know what my fault Sensa una tona Hope it may be from tomorrow Sensa una tona Oh Giving me torture And bliss Oh 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 Radio Carro La radio su ruote Sempre in movimento Oh Rientriamo Rientriamo Bella sto pezzo Di zucchero Quanto è difficile fare i lavori qua Di regia Mentre si cammina Tra l'altro oggi il tempo È più vicino Un pochino Perlomeno è piovuto Adesso non più È piovuto Un pochino Poco Un pochino Poco Che grande italiano Che grande italiano Che grande italiano Ho fatto qualche goccia di pioggia E insomma Un po' bagnato per terra Ma Non ci sono Non ci sono problemi Temperatura di 4 gradi Quindi non c'è rischio di Piaccio Di neve Quindi niente Quindi possiamo liberamente Fare l'emissione Perché come dico sempre La pioggia non dà fastidio È un po' fastidioso Magari quando si scende Per portare la pista Ma non è fastidio Nella guida Anche perché Effettivamente Anche e soprattutto Mentre registro La trasmissione Va da una velocità Talmente piano Sto talmente attento Che Non ci sono rischi Di spandare Di andare fuoristrada E cose semplici No? Sì La sicurezza Sempre prima di più Quello che veramente Ti danneggia Tanto è la nebbia E la nebbia Non so addirittura Che cosa sia peggio Di due cose Penso addirittura Che la nebbia Sia peggio Ma Vedremo se Ovviamente novembre Il mese della nebbia Mostreremo a vedere Se continuerà a farlo Più le notte Mi sembra Che quest'anno Siamo addirittura Un po' Come dire Quasi un mese in anticipo Allora Detto questo Andiamo prima Sulla formula 1 Ieri Si è suolto Il Gran Premio del Messico Bellissimo Bellissimo È stato un Gran Premio Fantastico Allora Diciamo innanzitutto Una cosa Che il pubblico È stato straordinario Quello che Può darsi Perché l'anno scorso Non c'è stata E tutto il resto Ma quello che Riesce Ad Veramente Ad aggregare le persone Cioè A richiamare Così tanta gente Come la formula 1 Sta facendo Negli ultimi anni È una cosa Veramente sopra di me Ieri Il Gran Premio del Messico Tra l'altro Molto particolare Come circuito Perché si trova A 2300 metri di alterza Quindi immaginatevi voi Lì là È molto rare Cioè 2300 metri di altezza Praticamente È un passo suona Delle Dolomiti E lì Se ne stanno Così In maglietta A 20 gradi Quindi immaginatevi voi Perché quando ci dice Che la terra è rotonda Più che rotonda Che la mente È un ovale Come un uovo È più scacciata Sui poli È più cicciotta Sull'equatore Quindi fa anche Questo effetto Fa in realtà 2300 metri di altezza È strano pensare Di vedere Un gran primo Di Formula 1 Dove Praticamente È come se fosse appunto Come dico Come dico Sulle Dolomiti Al passo Sella Per l'interno Pensate che il passo Delle tre cime Di Lavareto Dove c'erano i rifugio Sono 2700 metri No? Ecco Immaginatevi voi Ecco Se andassimo adesso lì Scopriremo che Ci è accumulata Veramente Tanta tanta nera Quindi pensate un po' No? Quante Che diversità C'è questo fattore Di strano Inoltre Ragazzi Anche questo Una delle città Più popolose Del mondo Si trova A un'altezza del genere No? Anche questa Se vogliamo dirle Un po' Una cosa un po' Insolita E porta anche A fare Delle considerazioni Tecniche No? Poi magari qua Ascolteremo Il nostro Il nostro Esperto Il nostro Over Il nostro Meccanico No? Però L'alefatta Chiaramente La mancanza di ossigeno L'effetto scia Che diventa più pronunciato Perché c'è un rettilino Importante Ma io penso Che la cosa Che lo rende Veramente Il gran primo Il gran primo Forse uno dei più belli Più particolari Della formula 1 Io penso Insieme a Insieme a Monza E il podio Veramente più bello Del mondiale È il fatto che sia stato fatto All'interno Di un Di un Di un Di un Becchio stadio Di baseball È una cosa Veramente molto Molto particolare Proprio tu cammini A un certo punto Ti si apre davanti Uno stadio Dove tu passi Con la macchina Con le vetture Con il monoposto All'interno All'interno Dello stadio E poi chiaramente Lì alla fine Venne fatta la grande festa E il podio Venne fatto lì Con la musica Eccetera Eccetera È veramente Veramente Fantastico Mi dispiace un po' Che quando tu Vedi queste cose Vedi i commentatori Di Sky Che purtroppo Non si trovano più lì Si trovano In studio a Milano Anni fa invece Vedevamo Direttamente I nostri commentatori Balzetti La Masolini Che stavano lì Insieme ai protagonisti Ballavano Bevevano champagne Sembra non c'era E' bello vedere Una festa del genere Indipendentemente Dal fatto Oh ragazzi Vi hanno detto ieri Il 99% Della popolazione Di città del Messico È stata vaccinata Per cui Loro sanno Quello che fanno Vedremo Se sarà così Oppure no Insomma Certo che Fa impressione Il pensare Che ci siano 130.000 persone Tranquillamente Lì così a festeggiare Però io trovo Che il fatto Che ci sia Appunto uno stadio C'è dentro uno stadio Abbiamo fatto passare Una parte La piccola parte Che la mente Del circuito Di Formula 1 Sì è una cosa Molto bene Mi piacerebbe Che questo Magari possa essere Anche replicato Perché Veramente Cioè Particolare Veramente La cosa più particolare Del Gran Premio Nel Gran Premio Del Messico La gara Com'è stata La gara è stata Bellissima La gara è stata Fantastica Fantastica Meravigliosa Fino alla seconda curva Dopo Il vuoto Il nulla Il nulla Il nulla Come sempre Purtroppo Capita Negli ultimi Gran Premio Questa Formula 1 Veramente Fatta Fatta male Ragazzi Studiate Ha pensato Ma Voi pensate La Ferrari Ha fatto una gara Perchè Perfetta Perché ha fatto Una bellissima gara Un weekend Straordinario Perché ha recuperato Un sacco di punti Dalla McLaren Ed è tornata Ad essere La terza forza Del mondiale Insomma Obiettivo Minimo Stazionale Messo da parte Del cavallino No Senza Terzo posto Minotto Nella stessa Intervista Del dopogara Ha detto Che Di essere Molto soddisfatto Di come La gara è andata Praticamente È stata Una gara Perfetta Anche Finalmente Hanno funzionato Anche P-stop P-stop Molto buoni Due secondi Tre Due secondi Due Due secondi Quattro Insomma Veramente Il VEGAN Ha fatto solo Due Di P-stop Uno per macchina Quindi Voglio dire No È chiaro Che se fai 10 P-stop C'è più Possibilità Di sbagliare Però Insomma Veramente No Una gara Straordinaria Tutto quanto Tutto quello Che volete Ragazzi Chi più ne ha Più ne metto Però Doppiati Sei arrivato Doppiato Hai fatto Doppiato E sei arrivato Quinto Sesto Ma Non è Quello Ragazzi Che sinceramente A me Mi Mi scandalizza Della Formula 1 Che fa tutto Di queste ultime gare E che due macchine Come le Ferrari Partono Fanno le gare Praticamente Sembrano Una sorta di taxi Una sorta di camion Mi sembra Come Ecco Come Come Robino Che va Su un'autostrada Fai i suoi 90 85 all'ora Quelli che deve fare Di legge Cammina 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 Arriva a sua destinazione Prende scena dal camion E ciao Non sembra la stessa cosa Non c'è un sorpasso Camminano praticamente Da soli Non 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 c'è un minimo Di atleta lì Di niente Di niente Addirittura La cosa Più schifosa Che poteva Se mai potuto vedere Tu hai due piloti Dici Ok Dai la posizione A quello davanti Quello di dietro Fallo passare davanti Perché sembra Che vada più veloce Magari forse Lui riesce Ad andare a prendere Quello che è davanti a te Già una cosa assurda Cioè Sei più veloce Sorpassa Sorpassa Cosa vuol dire questo Prenditi L'altro Addirittura Leclerc Si è praticamente Fermato Per far passare Sainz Lo fa passare Sainz Fa due o tre giri Buoni Sembra che si avvicina I commentatori sky Che mi fanno ridere Perché giustamente Non lo fanno Nel tuo mestiere Mettono Quell'empatia Urrano Fucsia Da parte di Sainz Che lo vuole andare a prendere Sì Lo vuole andare a prendere Dai Dai Vavo uno scompagnero Se fanno casino Questo e quest'altro Quell'altro Prende a cena Fa due giri Veloci Boh Si rimette lì Stabilizza Il distacco Rimangono Quei secondi Che rimangono Dopo un po' Prendi Vedi Sainz Che si ferma Per far passare E Claire Mandata a quel paese Ma cos'è Ma una gara Questa Ma che cos'è Ma cos'è Una gara Una gara di formula 1 Poi Perez Che diceva Ha cambiato le gomme Più tardi Per avere le gomme Un po' più fresche Bene Ok Ritorna in pista Dopo il cambio gomme A sette secondi Bene Corri con un mato Per portarsi lì davanti Di nuovo Il commutatore sky Sentite il pubblico Che spinge Quando Perez passa Ovviamente Il pilota messicano Passa dentro lo stadio Questo bellissimo stadio Il pubblico Che incita Dai Fux È da parte Giro veloce Giro veloce Da parte di Perez Che si avvicina Ha recuperato mezzo secondo Nei confronti di Vince Hamilton È sempre più vicino Lo vede Lo vede Come una carota Come 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 quando Come il cavallo Che vede la carota Questo ti dà una carica Il commutatore tecnico Ce n'è Che spinge Sì Dai Si va lì vicino Si porta di dietro La macchina Di Vince Hamilton E questa non è la prima volta Che lo vediamo Lo vediamo da tutto l'anno Poi si cominciano A scaldarsi le gomme Arriva l'aria cattiva Dalle sporche Della macchina davanti Si scaldano le gomme E la macchina In cammina più E la macchina Non va Ma che Cazzarola Di senso è Ma cos'è Questa roba Ma guardiamo Ha preso il giro E adesso finalmente È più veloce Si è portato di dietro Ma lo sorpassa Ma tenta di fare un sorpasso Farà qualcosa No Si porta di sotto E poi la macchina Non cammina più Perché si scaldano le gomme Si scaldano le gomme Ma l'aria sporca L'aerodinamica Della macchina Fa in modo Mandata Mandata a quel paese Per non dire Per non dire altre parole Ma cos'è Ma cos'è Formula 1 Questo Quest'app che prende Fa Sta cavolata Che ha fatto botta Sa anche sta cosa Non ti ordini di scuderia No ma devi far passare Prima questo Devi dare l'effetto scia Devi far qua Devi far quest'altro Non gioco di squadra Su e giuro Non cercare Poi alla fine I piloti fanno La gran confusione Vanno in bambola Non capiscono Chi c'è dietro Chi c'è dietro di me Per sta per fare furbo Prende e passa davanti Una volta davanti Pippo non lo prendi più Fa la gara per conto suo Non viene mai inquadrato Dalle telecamere Perché intanto Non c'è motivo Cioè E poi E poi Fatemi dire anche queste ragazzi L'affidabilità Non esiste più Le macchine Arrivano tutte I sorpassi Tutti attenti Con l'attenzione Perché se fanno Una manovra fuori posto Gli danno le penalità Gli danno questo Gli danno quell'altro Quindi fanno stare attenti Che non succeda niente Quindi I sorpassi Le lotte Non le vedi più Dai Ma dopo Se qualcuno la chiama Formula Noia Ma come fai a dargli torti Cioè Ma come fai a dargli torti E nonostante tutto Nonostante tutto 130.000 persone A fare festa A fare festa A vedere A vedere questo spettacolo È stata la stessa cosa Due settimane fa Nei Stati Uniti di Texas Io non lo so Ragazzi Ma A me mi diverte più Guardare le qualifiche Che non la gara La gara La gara Non dice Non dice niente Non dice Non dice più niente Che c'è di qualcosa Solo nella partenza Poi il vuoto totale Nella gara Il vuoto più assoluto Ma anche quella componente Surpresa Che fanno parte Delle gare Io mi ricordo Un mondiale L'ultimo mondiale Purtroppo Che hai noi Perse il grande Schumi Il grande Michael Schumacher Perché Partì male Durante l'anno Alonso Gli prese Molti punti di vantaggio La seconda parte Della stagione Schumacher Che fece di tutto Di tutto Vince gare Su gare Su gare Per riportarsi A pari punti Nella gara fondamentale La penultima gara Che avrebbe dovuto Sorpassare E dare L'ottavo titolo L'ottavo titolo L'irriato Primo Da solo Boom Si rompe il motore Si rompe il motore E quindi Costretto Al ritiro Una componente Che ci stava Che può capitare Questa macchina E queste Arrivano Cioè Partono Arrivano Primi E poi Cioè Arrivano Due o tre giri Indietro Ma ieri Vedevo Dopo dieci giri Le due Ferrari Dopo dieci giri Calcolate che hanno fatto Tre o quattro giri Dietro la septicare Avevano Dodici secondi Di svantà Dodici secondi Indietro Dopo trenta giri Erano dietro A 40 secondi 50 secondi Ma cos'è Ma cos'è Ma cos'è Sta roba Ma come Ma come si può spiegare Una differenza tale E poi parliamo Delle Ferrari Che erano le macchine In quel caso Le più veloci No Le più veloci Dopo Le chiaramente Le quattro Adesso Lasciando perdere Le case Quindi Pensate un po' Le altre dietro E poi L'ultima cosa Che assolutamente Va detto Questa dovrebbe fare Una vera e propria denuncia Come lo stesso Giovinazzi Ieri ha detto Perché Perché il povero Antonio L'ha detto Ieri In intervista Di Mara San Giorgio L'ha detto Chiara e Tonio Dice Guarda Dice Hai la sensazione Che ti vuoi non rovinare le gare Dice Guarda Prima non ci volevo credere Ma da oggi Sì Da oggi sì Lo so È sesto Hai la fortuna Che nel casino Ti ritrovi sesto Ti ritrovi Sei davanti La macchina va bene Le gomme vanno bene Va tutto a posto Che cosa fai Prendi Mi fermi Per cambiare le gomme E mi metti Lì dietro Due macchine Più lette di mese E mi distruggi la gara Per che cosa Per favorire L'icona in davanti Che chiaramente Arriva più Perché Ma che cazzo Mi hai fermato a fare Non è mica La prima volta Che per colpa Della strategia Mi rovinano le gare Al povero Antonio Con la conseguenza Che poi dopo Ecco Non viene rinnovato il contratto Perché non porta risultati Ma se siete Primo come team Che mi rovinano le gare Ma è chiaro Di non porti risultati E infatti E poi E infatti Viene scelto Botas Come pilota A prendere il posto Dello stesso Antonio E poverino Non ha neanche il contratto Non ha neanche il posto In Formula 1 Non riesce neanche a trovare Una A trovare Un sedile Questo è veramente Da parte Poi di Dicò Viene il suo posto E soprattutto Si merita anche Di fare una bella carriera Una grande carriera Perché il talento c'è Il talento c'è La qualità c'è Ogni volta che fa Una gara bella Fa qualche giro buono O c'è anche La componente Sfortuna Che gli dà addosso Ma soprattutto La squadra Che con le sue strategie assurde Cioè Penalizzano Giovinasti Per favorire L'aicone Non so Cioè E anche Controproducenti Ma proprio Cioè Ieri potevano fare Quindi se un settimo Ottavo O un settimo Nono Facevano più punti No Proviene la gara Di Giovinasti Per favorire l'aicone E qua L'arriva a punti Giovinasti Te lo tiene di piedi Per quanto sua A fare la gara Tutto solo Così Ho due macchine Più dentro di me Poi sempre Quel problema Che Se tu sei dietro La macchina Non puoi far niente Puoi sorpassare La macchina cammina Come si scalda Io Ragazzi Sono veramente Veramente scioccato Voi Direte Cosa li guardi a fare Non so come mi esforcero Che dice Non la guardo più La Formula 1 Per protesti No Io no Adoro le gare Adoro Adoro guardarla Perché mi piace Mi piace quello che c'è Autore La tecnica E tutto quanto Mi piace ascoltare Anche i commenti Di Di Over Che chiaramente Le cose Che io Da profano Non vedo Non me ne rendo conto Quindi è bellissimo Sentire poi dopo Le sue analisi E quindi Se non l'ho vista Logicamente Anche le sue analisi Non le capirei Quindi Anche questa è una cosa Che mi spinge Gravamente a vederla Però vi ripeto Ragazzi Sono più belle ormai Le qualifiche Della gara stessa La gara stessa Non porta nulla Niente Porta Niente Non ci possono essere Sopassi Perché le macchine Non vanno Non ci sono Rotture Le affidabilità Le squadre Che fanno Questi giochi Sutto Lì di squadra Praticamente Dove non vedi Neanche i combattimenti Almeno tra compagni Di squadra Non vedi niente Non vedi Cioè vedi Veramente Quello che disse Tanti anni fa Adesso non mi ricordo Lo stesso Marchioni Addirittura lo disse Forse Marchioni Non so Non sbroll Mi ricordo Mi ricordo Esattamente Chi lo disse Ma disse Siamo a rivedere Dei taxi Che camminano In effetti Cioè pensare Pensare alla gara Delle due Ferrari Quinta Sesta Doppiate Hanno fatto Una gara Così Cioè Sembrava A momenti Sapete Come è La classica scena Con il gomito Appoggiato Fuori dal finestrino Così fuori dal cruscotto Intanto guidate Tanto mentre si fuma Una sigaretta Perché ragazzi Ma io non lo so Ma cos'è Ma cos'è La corsa di Formula 1 Questa E poi Dai la posizione Fallo passare davanti Ma no Non ce la fa sorpassare Fallo rimettere di indietro Ma ci eravamo messi d'accordo Prima In scuderia Ha detto Binotto Di fare così Se qualcuno Ma lasciali guidare Senza ordini di scuderia Io le abbollirei Completamente Gli ordini di scuderia Dasta Non esistono più Ordini di scuderia Andate Correte E se vedo Che vi mettete d'accordo Che uno facili dal sorpasso Ti squalifico Dalla gara E la gara successiva Non la fai nemmeno Allora Sì che vedremo Un po' qualcosa in più Scusatemi ragazzi Ma ripeto Nonostante tutto Che mi è piaciuto Mi è piaciuto vedere Mi è piaciuto vedere I commenti Io sono avvelenato Con questa Formula 1 Sono veramente Avvelenato Allora Ultimo trance Ultima pausa musicale Abbiamo un'altra canzone Che avevo Preparato per voi oggi E poi dopo Andiamo un pochino A dire un paio di commenti Sul calcio Anche qua Poco da dire Alla fine dei conti Non è che ci sia Chissà che cosa Quindi a dopo Rimanete lì Non andate via Quattro amici che ci toffonano Da mercoledì Da mercoledì Non ti si vede più Hanno aperto Un posto strano Di scopare Perché non si va Perché non si va Senza troppa voglia Ordiniamo un drink Io che penso Che cos'è che faccio qui Gli altri che mi guardano E si chiedono Che cosa non va Che cosa non va Senza averti qui Senza problemi Senza averti qui Non è così Bello come Dicono Senza averti qui Non è che ci si Senza averti qui Non ti ripassa Dura ore Un attimo Suono e immagini Dal video Giù box Questo posto Non mi piace Neanche un po' Forse non è posto Forse sono io Quello che Non va Quello che Non va E voi perché fate Quelle facce lì Lo so che Non ci si comporta così Che dovrei essere Un po' Di compagnia Non è colpa A me Non è colpa A me Senza averti qui Senza problemi Senza averti qui Non è così Bello come Dicono Senza averti qui Non è che ci si Senza liberi Non ti ripassa Senza problemi Senza averti qui Senza averti qui Non è così Bello come Dicono Senza averti qui Non è che ci si Senza averti qui Non ti ripassa Dura ore Un attimo Senza averti qui Grazie Oh eccoci di nuovo qua Prima di andare al calcio Mi sono dimenticato Di dire una cosa Sempre sulla Formula 1 Stavo ragionando Tra me e me E ridevo in effetti Tra me e me Pensare alle due Ferrari Per venire da ridere Perché uno dice Ah faccia la nostra gara Passi avanti te Dai Un po' come due Che fanno Vado a fare una gita In montagna Fanno passeggiatina Così Passi avanti te No ma passa avanti io Che è meglio Fammi fare Fammi fare un giro veloce Voglio sgrancarmi un po' Un po' le gambe Capito Dai Vabbè Comunque A parte questo C'è stata una dichiarazione Ieri Di San Milton Che non so Se è passata sotto traccia Perché poi L'approfondimento A serata tardi Non l'ho visto Non l'ho visto Perché finalmente Con il fatto che cittava la Roma A mezzogiorno e mezza Dove tra l'altro Ho visto soltanto Lo scandalo Scandaloso Il secondo tempo Della Roma Quindi ho dormito pochissimo L'approfondimento Quello che poi si chiamano Rensanato Molto molto bene Molto divertente Non sono riuscito Non sono riuscito a vederlo Quindi non so se Scusate Parlando che ho dormito poco E se è passato sotto traccia E se è passato sotto traccia E no Ma ieri Hamilton Per la prima volta Da quando è la Mercedes Ha fatto una cosa grave Ha fatto una cosa grave Che sicuramente Il caro Toto Wolf Non penso che la lascia passare Così In cavalleria Ha detto Dice Gli altri Migliorano la macchina La macchina va veloce Ha ieri step E noi abbiamo La stessa macchina Di Silveston Dice Io sto facendo Tutto quello che posso Ma sto combattendo Con una macchina Che è la stessa macchina Di Silveston Cioè Che non porta avanti Dei aggiornamenti Soprattutto sulla Provincia Quasi come se Gli anni Cioè Quasi come Quasi come da dire Sai Gli anni successivi Facevamo la stessa cosa E vincevamo Perché non c'erano rivali Quest'anno I rivali ce li abbiamo E perderemo il mondiale Perché Non so Ma un po' Ricordato In questo caso Chiaramente Il povero Luisa Ha pienamente ragione Perché se la macchina È la stessa di Silveston Che cosa può fare Di più Al massimo appunto Di riuscire Con dei salti mortali Grazie alla sua classe Suo grandissimo talento Alla sua esperienza Almeno a battere Una delle due Red Bull Se consideri I totali disastri Che fa quell'altro Compagno di squadra Insomma No Inizialmente Con la presenza A posto Però insomma Mi ricorda un po' Mourinho In cui ogni volta È colpa di qualcosa Di diverso E poi alla fine Però i risultati Non arrivano Ragazzi Ieri Al di là di tutto Quello che è successo Nella giornata Calcistica Che c'è dentro Tutto quanto È chiaro Che dal punto di vista Giornalistico Ma non solo Ma non solo La sconfitta Della Roma È proprio Il confo più grosso È la cosa più grave Tra l'altro Che ne sono passata Anche della Lass In classifica Io Ho una sensazione Qualcuno dice Ma Morigno è bollito Morigno è bollito No ragazzi Non è questione Di un Morigno Bollito Che poi Non so neanche Che cavolo Vuol dire Cosa significa La persona è bollita Cosa vuol dire Che è rincoglionita Non lo so io Che è una persona È talmente rincoglionita Che non riesci più Ad allenare L'allenatore Che in questo momento Insieme a Guardiola È l'allenatore Più vincente Della storia del calcio Cioè Diciamo contemporaneo Vabbè Lasciamo stare I grandi del passato No Alla vittoria opposta Alla due mondiali Un'olimpia Scudette Tutto andare Lasciamo stare Queste cose qua Ecco già Nel calcio contemporaneo Che all'improvviso Non so Non si è più capace Di allenare E che vedete ragazzi Mi sono visto Sempre di più Facendo questa idea Che tra l'altro Penso che sia In questo caso Chiedo anche a uno Ecco L'intervento proprio Di un allenatore Di un allenatore Se allenare Per tanti 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 anni Per più di vent'anni No Perché Dal primo Porto Che vinse la Champions League Nel 2004 E nel 2002 Mi sembra Che vinse Che vinse L'Europa League Il Porto Mi ricordo Se fuori dal 2002 2003 Francamente Sono sempre passati Quasi vent'anni No Ecco Quando un allenatore Che ha allenato Di tutte le squadre Possibili che ci sono No Più ne ha più ne metto Ma ha allenato Sempre squadre Con Dotate di giocatori Di enorme qualità Di grande qualità Si ritrova All'improvviso Una squadra Di una qualità scarsa Di una personalità Anche non Non spiccata Soprattutto Che non abbia Dei leader in campo Di grandissima qualità In grado di Prendere la squadra No Di tenere Di sollevarla Di trascinarla Nei momenti difficili E quant'altro Ed In più Che debba costruire Qualche cosa Tutto il resto Io penso Che È proprio questo Che ti porta in difficoltà Ma proprio A livello A livello del quotidiano A livello del lavoro quotidiano Perché Fondiamo questo esempio No Se io ho un giocatore Ho un gruppo di giocatori Di qualità Soprattutto Ecco Magari nel reparto Offensivo Davanti Dove devono fare Delle giocate Io vi dico Ok Quando tu hai il pallone Tu devi fare questo movimento Tu devi andare in avanti Tu devi prendere il pallone E lo devi passare In modo filtrante Per esempio Palla a terra A raso a terra Passi il pallone Direttamente In questo passaggio filtrante Per lui Che è avanti E' davanti E' chiaro che Tu devi Calcolare il tempo Esatto In cui Deve passare Con il giocatore Che si inserisce dentro Devi capire Il momento esatto In cui Fari il passaggio E ci vuole Quindi Quella è questione Di personalità E poi ci vuole La qualità necessaria Per fare il passaggio giusto Quindi che sia Nella direzione giusta E che sia anche Nella forza giusta Quindi non c'è Troppo corto O troppo lungo Ok Se ti manca Questa componente Se ti manca Questa componente Ti manca anche La capacità Non so Di giocare La palla di prima Per esempio Quindi di velocizzare Il gioco E di far giocare E di Di bucare Così la difesa avversaria Per esempio No Appunto Con qualche imbucata Con qualche palla a terra Qualche triangolazione veloce Combinazione E quant'altro Soprattutto di prima Il modo migliore Per velocizzare il gioco Per far sì Come si dice Che la palla Gira velocemente Che si muova velocemente I giocatori Tuoi non riescono a farlo Non sono capace A farlo Non lo fanno in allenamento E tantomeno Lo fanno in partita Magari Perdendo del tempo Facendo dei passaggi Prevedibili Leggibili Della difesa E poi dopo Tutto Si nervosisce Si nervosisce Il giocatore Che intanto Perde energie Perché si porta davanti Non gli arriva il pallone Si nervosisce Che deve fare il passaggio Si rende conto Che non è in grado E tu devi fare il passaggio Corretto E ti incazzi E allora magari Una volta su Tissini Cerchi di farla meglio E ti viene peggio E' chiaro Che tu Con una difficoltà Del genere Devi cambiare Il modo di giocare Il modo di allenare E' evidente Ecco forse Questo passaggio Mourinho Fa fatica a farlo Non l'ha ancora fatto Non si ricorda più Come è Cosa vuol dire Allenare una squadra Di una scarsa qualità E che soprattutto E' costretto A fare di necessità A virtù Io penso Di trovare Questa chiave Di reticola Perché Roma ha speso 90 milioni di euro Ha mantenuto Tutti i suoi migliori giocatori Noi sappiamo benissimo Che se al posto di Friedkin Ci fosse stato ancora Il vecchio Pallotta Zagnolo quest'anno Sarebbe andato via L'avrebbero immediatamente venduto Invece Zagnolo Che è rimasto Quindi ha lasciato Tutti i giocatori Più forti della Roma Come i Mkhitaryan E quant'altro A parte gli equivoci Alla Smalling E che si ritrovi A meno punti Nella Roma precedente E' evidente Che c'è proprio Un problema di base C'è un problema serio Un problema serio Un problema grosso Io penso Che a questo punto Il problema di base E' proprio questo Mourinho non è Non riesce Ancora A tornare In quella mentalità Nel dovere Allenare una squadra In una scarsa qualità E quindi è costretto A cambiare Completamente il gioco Tant'è vero Che comincia un po' Andare anche nel pallone Difesa 3 Poi passa la difesa 4 Poi perde la partita A mette tutti quanti Attaccanti Attaccanti in avanti All'Arembadio Cercano di recuperare Il risultato Si prendono Dei gol assurdi Come il gol Del 3 a 2 Che prende la Roma Incontro qui Del pazzesco Che prende qualcosa A metà A secondo tempo Cioè Effettivamente Accadono proprio Delle cose Mi dà l'idea Di una squadra Che dà 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 Per il suo allenatore Dà tutto quello Che può dare Ma che Quello è il suo limite Quello è il suo limite Più di quello Non può fare Per cui Unce è assolutamente Un cambiamento E io a questo punto Comincio a mettere il dubbio Che Molinio Sei la persona giusta Che può fare Questo salto Che può far fare Ai giocatori Questo salto di qualità Ecco Io comincio sinceramente Ad avere Qualche dubbio Sinceramente Anzi guardo forte Perché se no Altrimenti Ragazzi non ci spiega Non si spiega Non si spiega Come una Roma Che abbia speso 90 milioni di euro Abbia tenuto I giocatori migliori Sia più scarse Cioè abbia meno punti Di quella Dello scorso anno Che fu un disastro Che Fonsega Fu un macello Fece un disastro totale Ecco Ci deve essere sotto Assolutamente Una spiegazione Razionale Per questo Credo che questa sia L'unica spiegazione Che mi viene in mente Forse magari In questo senso La parola Abbollito O pensare Che posso pensare Magari Si riferisce In questo Il resto Ragazzi Abbiamo visto Che giocare Col Verona Non è semplice Quindi il Napoli Non va oltre un pareggio Il derby Il Milan Con la capacità Di lottare E quant'altro Salvato anche Da un calcio Di corno Sbagliato Di lottano Non si porta a casa Un vicino Io guardavo la corsa Guardavo la corsa E avevo il telefonino Con cui Ce l'ha sintonizzata La partita Qualcosa Ho cercato Di seguire La partita Però sinceramente Alla fine Ho volato Con il fiato Per il secondo tempo Perché In quel tempo C'era ancora La gara in corso Questa straordinaria Gara Bellissima Che ti ha tenuto Fino Fino all'ultima curva Lì Perché Tutto poteva accadere Tutto poteva accadere Partono 20 macchine Sono due incidenti al via E ne arrivano 18 E forza Vanno talmente in piano Come fanno E non fanno Se vanno così in casa Vabbè dai Lasciamo stare Il resto c'è La giornata Ho detto poco La vittoria Della Lazio La Juventus Che rialza la testa Questi vittori Stemizzati Io Ho fatto L'ultimo Voto Quindi Sei io Che non è ancora Guarita Dall'altro 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 Alla fine Il campionato Che dice poco Veramente Molto Oltre Non in questo senso Il problema Della difficoltà Occettiva Che io Personamente Ho Nel vedere Le gare Nel vedere Le partite E quant'altro Ragazzi Basta Più di un'ora Che sto parlando C'è una gola Sentissima C'è un suono Tremendo Come potete notare Comincio anche A non capire più niente E il giro Un giro Praticamente Quasi finito Con questo è tutto Noi ci sentiamo domani Un abbraccio fortissimo I miei ascoltatori In base I miei ascoltatrici Mi raccomando Che non l'ha ascoltata Si vada a riascoltare La sessione di sabato Che la trovate On line Nel nostro sito Radio Radiocarro Punto Sismonet Punto com Come dicerò Che siamo presenti In tutte le piattaforme possibili Quindi seguiteci Se volete dirci qualche cosa Farsi qualche domanda Fatelo E lo ripeto sempre La radio è aperta Quindi chi vuole partecipare Come ha fatto il nostro padre La nostra barbara È incredibilissimo Di poterlo fare Prende Ci manda un bel file vocale E noi Così com'è Se non ci sono troppe parolacce Chiaramente Comandiamo direttamente in onda Nella trasmissione matrimina Quindi il resto Cercate di seguirci Di rimanere all'occhio Perché Perché Forse in settimana Magari Facciamoci Facciamo un'altra direzione Se ne va a vedere Ciao a tutti A domani Fatti bravi come sempre E buon inizio settimana a tutti Come dicevo Da me Da Maurizio E da tutti Da Carlo Conosco i miei amici Da qua Da mio Carlo E da tutti Il mio Diciamo Il mio staff Così dire Da tutto uno staff Da più bravi ragazzi Di Radio Carlo Noi vi auguriamo Un buon inizio settimana a tutti Ciao a tutti A domani E vi è un buon inizio settimana a tutti E vi è un buon inizio settimana a tutti E vi è un buon inizio settimana a tutti E vi è un buon inizio settimana a tutti E vi è un buon inizio settimana a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti